Scuole e caro bollette riscaldamento a rischio da gennaio in poi. Si torna a nascere a Pesaro fissata la riapertura di pediatria e ostetricia. Cantiano e i postumi dell'alluvione si invocano sostegni a fondo perduto. Fine degli scavi archeologici nella piazza di Pesaro ora si completa il selciato. Sabato si alza il sipario sulla 63 stagione concertistica. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale di oggi. Oggi è martedì 4 ottobre e apriamo questa edizione occupandoci del caro bollette. Si prefigura infatti un inverno piuttosto rigido per le scuole superiori pesaresi con la provincia che senza sostegni annuncia di non essere in grado di garantire il riscaldamento oltre il mese di dicembre. Vediamo il servizio. Si annuncia un inverno molto rigido per le scuole superiori pesaresi perché gli enti pubblici non sono esenti dal caro bollette e in provincia si sono già fatti due conti in tasca. Se le cose non migliorano, se non arrivano aiuti, l'amministrazione è in grado di garantire il riscaldamento nelle scuole superiori solo fino a dicembre. Quest'anno abbiamo sulle spese di riscaldamento solo per le scuole superiori di 3 milioni di euro, il che non è sostenibile perché la provincia è un ente che vive con i trasferimenti che ti fa allo Stato e con alcune tasse automobilistiche che sono diminuite di un milione e mezzo di euro. Tradotto, un bilancio con enormi entrate in meno ed enormi uscite in più. Come UPI nazionale stiamo lavorando sul governo perché hanno fatto una serie di trasferimenti ma sono irrisori, abbiamo avuto 190 mila euro di contributo, mi sembra 190 mila euro di contributo ma a fronte di 3 milioni di euro capite che noi veramente siamo preoccupati e speriamo di poter garantire il riscaldamento alle scuole. Naturalmente alcune cose cambieranno perché cercheremo di razionalizzare il tutto. Sarà dunque inevitabile vivere autunno e inverno con piccole e grandi rinunce oltre ad espedienti di risparmio. Temperature più basse delle scuole, incontri che dopo le 5 non si fanno più, le luci devono essere spenti, i riscaldamenti dovranno essere spenti a una certa ora e le palestre, mentre prima erano riscaldate anche per le associazioni o per delle realtà che andavano a utilizzarle il pomeriggio, noi garantiremo solo il riscaldamento per la scuola e ad eccezione di alcune realtà dove possono andare diversamente aerebili che garantiremo il riscaldamento, non lo garantiremo più il pomeriggio, come quanto io ero piccolo che andavamo a giocare e la doccia si faceva a casa. E anche i rientri pomeridiani aggiuntivi piuttosto che la scuola al sabato possono diventare un argomento spendibile sull'agenda dell'austerity. Si può recuperare qualche ora il pomeriggio oppure il sabato può esserci la DAD, come è stata fatta, per esempio gli incontri con i genitori si faranno in videoconferenze, bisogna che troviamo delle soluzioni. Dal 5 dicembre si torna a nascere a Pesaro. Il Consiglio regionale di oggi ha risposto alle interrogazioni da parte dell'opposizione che chiedevano chiarimenti rispetto alla precedente previsione di riaprire entro ottobre pediatria e ostetricia dell'ospedale San Salvatore. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha chiarito che il trasferimento del dipartimento materno-infantile è vincolato alla ristrutturazione delle due strutture che hanno accumulato ritardi per fattori come il bonus del 110% e la guerra in Ucraina che hanno complicato il reperimento di materiali e manodopera. A pediatria i lavori sono ultimati da aprile, ad ostetricia mancano i lavori di finitura che si concluderanno il 15 novembre. Il problema attuale, ha riferito Saltamartini, è il problema di reperimento di personale con diverse procedure di concorso attive, per far fronte ai prossimi pensionamenti. E dal Consiglio regionale di oggi gettiamo lo sguardo a quello dell'11 ottobre che si annuncia come un consiglio monotematico sull'alluvione. Comuni come quello di Cantiano infatti invocano contributi a fondo perduto per far ripartire il tessuto economico, come ci spiega in questa prossima intervista il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini. Il Consiglio regionale dello scorso fine settimana ha deliberato la prima iniezione di stanziamenti all'emergenza alluvione con un assestamento di bilancio dal quale sono stati ricavati 21 milioni e mezzo di euro. 15 di questi sono per la manutenzione pluriennale dei fiumi, gli altri per la ripartenza economica dei territori. Agevolazioni per accesso al credito, ma per chi amministra i territori serve altro. Servono contributi a fondo perduto per poter immaginare una ripresa da territori in ginocchio, come nel caso esternato dal comune di Cantiano. Noi abbiamo appreso di questa importante opera di supporto in una fase post-emergenziale, però credo che quanto fatto ancora non sia sufficiente o perlomeno non è sufficiente per territori come il mio, in cui oltre ai danni drammatici subiti al patrimonio pubblico legati all'alluvione, è stato completamente distrutto il tessuto socio-economico del Paese, perché la particolarità di Cantiano è quella di avere infatti avuto le esondazioni nei punti nevralgici dell'economia del Paese, quindi l'intero centro storico e l'intera area industriale. Quindi il meccanismo di rilancio in questa fase richiederebbe anche un aiuto sostanziale, rapido, anche in termini di contributi a fondo perduto, perché capirete che il fare impresa in territori delle aree interne è già di per sé impresa ardua. Dopo un evento del genere l'idea di poter trovare in ulteriore indebitamento la via d'uscita a una situazione di questo genere credo che non sia alle aspettative da parte delle attività economiche del Paese. Quindi io credo che in questa fase si giochi anche la tenuta sociale, la tenuta anche psicologica di chi oggi ha una piccola attività in un borgo come Cantiano ed è per questo che abbiamo chiesto di poter mettere in campo anche delle iniezioni di fiducia in termini di contributi a fondo perduto che possano intanto far propendere per cimentarsi di nuovo nella riapertura della propria attività a cui magari aggiungere in una fase però successiva le altre misure che la Regione ed altri enti hanno messo in campo in termini di facilitazione dell'accesso al credito. Istanze che Cantiano sta stilando in prospettiva del Consiglio regionale monotematico sull'alluvione calendarizzato ad Ancona per l'11 ottobre. Istanze che lo stesso Piccini ha già esternato alla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, in visita nel Comune alle pendici del Catria. Noi sarà tra l'altro nostra intenzione formalizzare in una nota indirizzata chiaramente all'organo di governo quindi alla Giunta, all'attuale maggioranza ma estesa a tutti i consiglieri regionali quelle che potrebbero essere le aspettative e quindi le istanze che un territorio come il mio gradirebbe come fase di supporto e di vicinanza istituzionale legata al rilancio dell'attività economica del Paese. Proprio perché un evento del genere non ha colori politici, quindi di fronte a un'emergenza del genere noi chiamiamo in causa la responsabilità di chi amministra a vari livelli istituzionali chiedendo di fare il possibile rispetto al proprio ruolo. Quindi oltre l'appartenenza politica, oltre il colore, in questa fase c'è bisogno di un atto di sintesi che risponda però alle aspettative pragmatiche di territori montani. Si chiudono gli scavi archeologici in piazza del popolo di Pesaro dopo i ritrovamenti di epoca medievale che nelle ultime settimane hanno fatto emergere scheletri umani e architetture murarie antiche. Gli scavi in ulteriore profondità hanno rilevato fonti d'acqua che di fatto archiviano la possibilità di andare a esplorare oltre l'archeologia cittadina di epoca romana già rilevata dalle preventive analisi georadar. I reperti ritrovati sono stati recuperati e catalogati dalla soprintendenza e gli scavi si stanno chiudendo per procedere come da cronoprogramma alla posa dei San Pietrini per la rinnovata pavimentazione della piazza. A fine ottobre nel centro storico di Pesaro partirà la raccolta differenziata con isole ecologiche e intelligenti che porterà al graduale accantonamento della raccolta porta a porta. Un argomento che abbiamo trattato spesso nel nostro telegiornale e per il quale è iniziata ieri una campagna informativa nelle case dei cittadini coinvolti. Nello specifico si tratta delle abitazioni collocate in via 11 febbraio, via Gramsci e via San Francesco. Il nuovo servizio sarà poi illustrato in assemblee pubbliche che si terranno a Palazzo Gradari il 10, il 13 e il 17 ottobre sempre alle ore 18. Ed ora ci spostiamo a Vallefoglia perché l'Associazione Nazionale Carabinieri delle Marche ha donato nel weekend un defibrillatore all'arma di Montecchio, uno strumento salvavita del quale beneficerà tutta la comunità di Vallefoglia. Vallefoglia accoglie un piccolo grande dono che significa maggior sicurezza per tutta la comunità territoriale. Sabato l'Associazione Nazionale Carabinieri delle Marche ha fatto tappa alla caserma dell'arma di Montecchio donando un defibrillatore della cui installazione beneficerà l'intero comune. Come ho detto è un piccolo gesto ma un gesto significativo che riguarda la volontà della nostra associazione, specialmente questa di Montecchio, di contribuire in ogni modo alla vita della città. Anche questo defibrillatore attraverso la stazione dei Carabinieri è utilizzabile da tutti i cittadini, sperando che non debba essere mai usato per queste motivazioni. Però è importante che anche in questo modo venga espressa la volontà dei nostri soci carabinieri in congelo di continuare la volontà di servizio sempre essendo in attività, in funzione del servizio della cittadinanza e quindi questa è la parte più importante. questo gesto verso il maresciallo Giabani di un defibrillatore è un segno di sicurezza dell'arma dei Carabinieri. Il defibrillatore serve per salvarle vite umane e l'arma c'è sempre. L'arma è una garanzia, non solo le missioni internazionali che è la punta dei diamanti delle missioni dell'Italia nel mondo ma anche nella vita quotidiana dei cittadini. Per noi è un grande piacere, del resto anche la presenza delle scolaresche, delle scuole medie, dell'orchestra delle scuole di Pian del Bruscolo, della banda musicale di Colbordo di Vallefoglia e anche la presenza della delegazione di una città albanese che è Troppoia, con la quale siamo ingemellati dal segno anche della dimensione internazionale della città di Vallefoglia. La comunità albanese è quella più numerosa a Vallefoglia e quindi è un po' nella filosofia del ruolo dell'arma dei Carabinieri in generale nell'Europa e nel mondo e a Vallefoglia. A questa vallata Montecchio dove siamo è il cuore di un'area di oltre 50.000 abitanti, i Carabinieri danno sicurezza e fiducia e speranza anche a questo territorio. Restiamo a Vallefoglia dove, come documentano queste immagini, sono terminati i lavori di rifacimento del nuovo manto stradale sulla strada provinciale che da Colbordo lo conduce a Montefabri, una nuova asfaltatura che è stata eseguita a seguito dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto per la metanizzazione e la depurazione di Colbordolo, Monte di Colbordolo e Montefabri. Domenica 9 ottobre al Parco Miralfiore di Pesaro è previsto un sit-in organizzato dalla rete di associazioni ambientaliste denominata La Voce del Miralfiore. Obiettivo del ritrovo che comincerà alle ore 10 è quello di chiedere una gestione competente e condivisa del parco, scongiurando interventi e tagli che le associazioni ritengono compiuti senza criterio e senza programmazione e che finiscono per creare un'inevitabile devastazione ambientale. E mentre il Comune nel mirino degli ambientalisti per la gestione del parco Miralfiore, nello stesso Miralfiore, l'amministrazione organizza per la successiva domenica, cioè il 16 ottobre, un nuovo evento dedicato ai bambini dal titolo Miraviglia. Nel prossimo contributo video gli assessori Belloni, Frenquellucci e Murgia invitano i più piccoli a portare i giocattoli che non utilizzano più per venderli o barattarli con i propri coetanei. Vediamo. Non gettare i tuoi giochi. Portali domenica 16 ottobre dalle 9 alle 18 al parco Miralfiore. Sarà una giornata di divertimento al parco Miralfiore insieme ai bambini e ai genitori. Vi aspettiamo. Ciao. La vita e le opere di uno dei più grandi scultori italiani come Giuliano Vangi diventano un film documentario che verrà proiettato in anteprima nazionale domani al Teatro Sperimentale alla presenza dello stesso artista pesarese da Tozione. Nome dell'artista Giuliano Vangi. Nome del docufilm Focus on Vangi. Avrà questo titolo il documentario sulla vita e le opere del più grande scultore italiano contemporaneo ritenuto dalla Critica, prodotto da GECO Film e diretto da Emerson Gattafoni. Mercoledì 5 ottobre alle 19 la città di Pesaro avrà l'onore di ospitare l'anteprima nazionale al Teatro Sperimentale per quello che è un prodotto che va a ripercorrere la storia, i pensieri e i luoghi che hanno costruito il successo di Giuliano Vangi, toscano di nascita ma pesarese da Tozione. L'emozione penso che la riceverò quando lo vedo perché ancora non l'ho visto, però da come è stato girato eccetera sono convinto che è molto bello perché siamo stati in un periodo abbastanza lungo anche dove lavora a Pietrasanta, poi si è girato nelle cave di Carrara per vedere i marmi eccetera, insomma hanno fatto un lavoro molto completo. Io sono convinto che è bellissimo e sono felice perché intanto viene dato subito a Pesaro per la prima volta, io non sono pesarese però vivo a Pesaro ormai da anni e anni e anni, mia moglie pesarese, mio figlio pesarese, sicché mi considero pesarese, sicché per me è un onore che venga dato qua, è un piacere enorme. Vangi, che per identità artistica si rispecchia nella natura della cultura, ha regalato negli anni alla città di Pesaro numerose opere, come i Gabbiani in Piazzale Matteotti, l'ultima in ordine di tempo. Una grandezza artistica che ha fulminato positivamente l'executive producer Valeria Cagnoni e l'autore e regista Emerson Gattafoni. Il maestro Vangi che racconta la storia della sua vita in questo documentario, quindi non c'è stato nessun tipo di screenplay o di preparazione di un certo tipo, è un documento di Giuliano Vangi. Siamo andati in liner di pari passo facendo fare il viaggio di Giuliano Vangi dentro le sue opere, la descrizione delle sue opere, la sua visione, quindi è un focus on. Focus on sono queste life biography, è un genere televisivo non molto italiano, molto anglosassone, che è un artista vivente che racconta il suo viaggio e la sua storia artistica. Questo è il focus on Giuliano Vangi. Ecco, l'anteprima nazionale sarà trasmessa appunto allo Teatro Sperimentale di Pesaro, poi dove si potrà seguire e vedere questo documentario? Noi abbiamo proprio voluto fare questa cosa in primis per presentarla nella città dove Giuliano vive. Abbiamo deciso di donare alla città per le library, per le scuole, questo documento, quindi non c'è stata ancora la nostra predisposizione alla vendita di questo prodotto, decideremo in futuro, prossimi mesi, sicuramente non abbiamo problemi di poi farlo passare in RAI o su altri broadcaster internazionali. E' per questo anche per noi che è un grande onore che questo documentario, questo grandissimo prodotto di ricerca documentale su di lui sia presentato in anteprima Pesaro, potrebbe essere rappresentato in qualsiasi città d'Italia, metropoli d'Italia e del mondo e quindi un segno ulteriore di amore verso la città come lo è stato anche il video e le parole molto toccanti che ha speso anche a sostegno assieme ad altri per la capitale italiana 2024. Sto la facendo avremo anche altri progetti che lo riguardano molto importanti verso il 2024, quindi insomma siamo felici di questa opportunità e godiamoci e invitiamo tutti a seguire il documentario al cinema sperimentale. Chiudiamo il nostro telegiornale ma rimaniamo al teatro sperimentale perché sabato 8 ottobre si alza il sipario sulla 63esima stagione concertistica il cui programma ci viene illustrato dal direttore artistico dell'ente concerti Federico Mondelci. L'8 ottobre è un grandissimo evento perché avremo il ritorno di una leggenda del concertismo internazionale, Ghidon Kramer, questa volta in formazione cameristica con violino e pianoforte e la formazione di trio è una delle formazioni di musica da camera, un po' la regina di tutte le formazioni. Il programma è bellissimo perché prevede, tra l'altro c'è anche un filo conduttore che conosce i brani apparentemente molto distanti perché parliamo di due composizioni di Mozart, il primo è Lave Verum scritto da Mozart l'anno prima di morire e in quell'occasione andò a trovare la moglie che stava facendo le terme incinta del suo sesto figlio e trovandosi a Baden appunto dove è il luogo termale e in prossimità della ricorrenza del Corpus Domini compone questa musica bellissima che questo è per dare il valore anche dell'universalità del messaggio musicale. Quindi due composizioni di Mozart e poi abbiamo un trio di Ghia Cancelli, altro compositore scomparso nel 2019, quindi un compositore praticamente contemporaneo a noi che è un grandissimo compositore con il quale Ghidon Kramer ha collaborato a lungo e infine il trio Opera Cento di Schubert e quindi un grande evento musicale con un artista veramente che non ha bisogno di alcuna presentazione quindi veramente invitiamo il pubblico a partecipare a questo primo appuntamento. Poi ne seguiranno altri tre, sempre allo sperimentale, avremo il quarteto NOS, una giovane formazione ma tra le più accreditate a livello internazionale, questa volta si fondono con la chitarra di Bandini, chitarrista anche molto celebre, è un programma molto bello perché anche qui nella prima parte avremo il quartetto di Mendelssohn, quindi riservato al quartetto d'archi, un colosso della letteratura per il quartetto d'archi e nella seconda parte avremo, ah dimenticavo, anche Crisantemi, un brano per il quartetto d'archi di Giacomo Puccini, una delle opere, rarissime opere scritte da Puccini per musica da camera, nella seconda parte invece avremo tutta musica dedicata quindi alla chitarra con il quartetto d'archi, con Luigi Boccherini, un quintetto, il re minore se non sbaglio, e poi il quintetto di Mario Castelnuovo tedesco. Ci avviciniamo poi alla seconda parte, sempre prima di Natale, a inizio dicembre, il 4 dicembre avremo due, il primo ciclo delle sinfonie di Beethoven trascritte per pianoforte da Franz Liszt, avremo l'esecuzione della quinta sinfonia ad opera di Paolo Marzocchi e della sesta sinfonia della pastorale ad opera di Maurizio Baglini. Infine l'ultimo appuntamento, il 16 dicembre, prima di Natale, un appuntamento con la musica di Morricone per opera di due musicisti che lo hanno accompagnato per tutta la sua vita, i solisti di riferimento che hanno partecipato a tutte le incisioni discografiche e anche per la musica, appunto per i film, tutti questi brani qui arrangiati da Morricone specificatamente per il violoncello di Luca Pencini e il pianoforte di Gilda Buttà. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale anche questa sera, prima però qualche istante ancora perché vi andiamo a raccontare e ricordare gli appuntamenti sulla nostra emittente Rossini TV. Questa sera infatti torna una nuova puntata di Green Tour, nuova nuovissima puntata che non avete mai visto, la puntata dedicata ad Apecchio alle 21.20, qui poi la ritroverete nelle varie repliche, non perdetevi questo appuntamento perché insomma la nostra Nicoletta tagliabbracci vi farà fare un giro bellissimo. E poi domani la nostra rassegna stampa, le 7.20 in diretta come sempre, ci trovate sia in diretta sul canale 80 visibile in tutta la regione Marche, ma anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito internet Rossini TV.it. E poi vi ricordiamo che tutte le notizie e i servizi che realizziamo durante la settimana li potete poi rivedere il sabato alle 19.30, la domenica in questi tre orari, per così fare una sintesi e darvi anzi una sintesi di tutti gli appuntamenti e gli eventi e le notizie della settimana sulla nostra emittente televisiva. Adesso andiamo a vedere come sarà il tempo per i prossimi giorni, io vi auguro una buona serata.